Bene amici, ho quattro ultimissime ore in tema pensioni e purtroppo una notizia bruttissima per i pensionati più fragili tra tutti. Insomma, IMS e Poste Italiane hanno pubblicato l'avviso ufficiale per il ritiro ai pagamenti in quattro tempi delle pensioni di agosto 2023, sui giornali si parla già però dei prossimi incredibili netti di settembre bonus vari, ma per settembre ufficialmente è in arrivo un ricalcolo che sarà una mazzata davvero per molti. Vi spiego tutto, tabelle, circolari, messaggi e calendari alla mano. Iniziamo, prima mi raccomando un bel like per sostenere il canale, io sono Mr. Lul e partiamo con i calendari ufficiali IMS e Poste per le pensioni di agosto che sono in pagamento dal primo agosto, non c'è dubbio, sia per i correntisti postali che per i bancari, però ritiro dei contanti allo sportello che parte dal primo agosto, martedì, lettere AC, fino al 4 agosto, lettere QZ. Ricordatevi però che questa tornazione può cambiare in base all'apertura del vostro ufficio postale. I contenuti dei cedolini li abbiamo già visti abbondantemente in questi video, quindi recuperateli. Ora, veniamo al tema caldo delle pensioni, una finestra su settembre e non perché, come stanno scrivendo alcuni giornali, ci attendano aumenti perequativi anticipati, speciali, come accaduto invece lo scorso anno, vi ricordate l'anticipo del governo Draghi, ma perché a settembre potrebbe per tanti esserci un ricalcolo che andrà a colpire purtroppo i più fragili tra tutti. Certo, per qualcuno il cedolino di settembre potrà essere più corposo, ma si tratterà semplicemente in questi casi di arretrati, quindi gli arretrati per equazione dei minimi non arrivati a luglio-agosto, i rimborsi del 730 non arrivati magari nella busta di agosto, oppure la quattordicesima non arrivata né a luglio né ad agosto, magari può arrivare a settembre, ma appunto arretrati. Veniamo invece ora a due bruttissime e freschissime novità ufficiali. La prima, zero risposte dal governo ai sindacati in merito alla riforma delle pensioni. I sindacati sono pronti alla piazza perché la flessibilità in uscita per il 2024 è enormemente a rischio. Ma la questione più spinosa riguarda invece gli invalidi, sia parziali che totali, con un IMSS che all'improvviso, con questo messaggio, cambia idea e rettifica i criteri con cui deve essere determinato il reddito, il reddito rilevante, per poter accedere, per poter percepire alcune prestazioni di invalidità collegate al reddito, come la pensione di inabilità civile e l'assegno mensile di invalidità. Un vero e proprio dietrofronto dove IMSS stabilisce, lo vedete, che il reddito rilevante per poter accedere a questi assegni mensili di invalidità dovrà essere dichiarato all'ordo delle ritenute fiscali e non più al netto, come invece ci era stato comunicato nel messaggio 1688 del 2022. È un po' lunga da spiegare, è un po' complicata da spiegare, faremo un video dedicato solo a questo, ma è ovvio che questo cambio di modalità di calcolo del reddito potrà incidere sui beneficiari negativamente, portando in alcuni casi a una riduzione dell'assegno mensile o in altri casi addirittura a una revoca dell'assegno. Ecco, insomma, la morale purtroppo è sempre sberle ai più fragili. Detto questo, attivate la campanella perché appunto arriverà in approfondimento. Io vi abbraccio, vi saluto, alla prossima da Mr. Lulla.